... Ringrazio i cittadini del Bignasego per il grande risultato che mi hanno tributato le elezioni del 5 di giugno. Siamo subito messi al lavoro per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti per i quali i cittadini ci hanno dato la loro fiducia. A nove giorni dalle elezioni del 5 giugno, nominato la nuova giunta di Bignasego, rinnovata per il 40%, il vice sindaco sarà Gregory Bottin con le deleghe allo sport, alla cultura e alle attività produttive. Poi viene confermato l'assessore Filippo Montin con le deleghe all'ambiente e ai trasporti pubblici mobilità. E quindi l'assessore Roberta Basana con le deleghe agli interventi sociali e alla scuola. Oltre alla nuova delega sulla legalità e rapporti con l'associazione avviso pubblico. Poi le new entry sono l'ex presidente del consiglio Federico Rampazzo che sarà l'assessore all'urbanistica e all'edilizia privata e l'architetto Valentina Luise che si occuperà dei problemi della casa, delle emergenze abitative e delle pari opportunità. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale e che mi ha portato appunto a questa delega. Le prime cose che prenderò sicuramente in mano è tutto quello che riguarda l'emergenza abitativa. Poi nella precedente amministrazione è stata portata avanti la commissione pari opportunità con dei progetti molto validi che in breve periodo si riprenderanno con la ricostituzione della commissione pari opportunità e chiaramente anche tutto quello che riguarda le politiche sul lavoro. Ringrazio tutti i collaboratori, tutti i candidati della lista che si sono impegnati a fondo per il successo che abbiamo ottenuto. Cercherò naturalmente di portare avanti le istanze dei cittadini e il programma di governo del sindaco Giacinti. In particolare come primo obiettivo che porteremo in consiglio comunale sarà quello delle cosiddette varianti verdi, ossia dare voce e ascolto a quei cittadini che hanno richiesto di poter modificare la destinazione d'uso dei terreni da edificabile portarla a verde.